Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizziamo insieme un nailo smokey eye super semplice, primaverile, adatto a tutti. Parto applicando su tutta la palpebra il primer e lo vado a stendere con le dita così che dopo il trucco regga tutto il giorno. Parto applicando un color burro oppure anche una cipria su tutta la palpebra in modo tale da fissare tutto il primer ed evitare poi di avere macchie con gli ombretti. Dopodiché prendo un pennello a penna di questo tipo e oggi vado a utilizzare questo color qua un pochino intenso. Parto prima con un colore intenso e lo vado a picchiettare nell'angolo esterno creando una V in questo modo. Mi raccomando prima picchiettate il colore e poi dopo lo andate a sfumare. In questo modo avrete un maggior rilascio di colore e poi dopo andrete a sfumare i bordi con un altro pennello. Quindi parto facendo questa V qua esterna e ora ne vado a creare un'altra nell'angolo interno dell'occhio in questo modo. Quindi presso il colore e poi lo porto leggermente in fuori in questo modo qua. E praticamente più o meno questa è la cosa che deve venirvi fuori. Non vi preoccupate perché poi tanto dopo lo andiamo a sfumare. Però intanto la struttura deve essere questa. Quindi angolo esterno e angolo interno. Dopodiché riprendo il pennello con cui prima ho applicato l'ombretto color burro oppure la cipria e vado a sfumare i bordi del trucco. In questo modo non vado ad aggiungere colore ma solamente a sfumare quello che ho appena applicato. Quindi appunto non aggiungo colore. Ora vado a prendere un colore leggermente più chiaro tipo questo. Con un pennello da sfumatura utilizzo sempre quello. E vado solamente nella piega del mio occhio in questo modo. E sfumo solamente qua facendo questo movimento avanti e indietro. E un pochino posso anche sfumare verso l'esterno. Ma praticamente sfumo entrambi i bordi del colore che ho applicato prima. E faccio solamente questo movimento. Dopodiché passo ad applicare lo shimmer in questa parte centrale che è rimasta vuota. Io oggi utilizzo questo qua perché è molto bello e lo applico con le dita. E anche lui lo vado a pressare solamente nella parte centrale in questo modo. E adesso vi faccio vedere come andarlo a sfumare con gli altri ombretti. Perché chiaramente non si può lasciare così perché è brutto. Quindi io prima lo applico su entrambi gli occhi in questo modo senza preoccuparmi troppo di dove lo vado a mettere. L'importante comunque è rimanere nella parte centrale. Dopodiché riprendo il pennellino di prima e il colore di prima. E vado vicino ai bordi e sfumo il mio ombretto vicino allo shimmer. E poi posso riprendere il mio shimmer e andarlo a mettere anche lui leggermente sopra. L'importante è comunque rendere il tutto abbastanza sfumato e che non ci sia comunque una divisione netta tra gli ombretti. Ora applico una matita marrone o nera nella rima interna superiore. Fate con calma perché fa un sacco solletico. E questo aiuterà a rendere le ciglia molto più intense e folte. Con il pennello sporco vado anche nella rima inferiore in questo modo ma proprio non prelevo altro colore giusto per rendere il tutto bello omogeneo. Ora vado con il mascara che è fondamentale perché cambia proprio tutto lo sguardo in tutti i make up. Il mascara è veramente fondamentale e quindi vado a lavorare bene le mie ciglia. Posso volendo anche andare a fare un pochino di punto luce e utilizzo questo ombretto qua che è un po' sull'azzurrino molto bello. E lo applico con un pennellino proprio piccolino ma proprio molto molto leggero. E questo è il risultato finale del trucco occhi come avete visto molto semplice però molto bello. Non lo faccio spesso però devo dire che non è niente male. Come avete visto ci vuole veramente poco e anche pochissimi prodotti praticamente tre ombretti. Fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un like e iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.